Buonasera, ben ritrovati da Oltre la Cronaca. Apriamo con alcune notizie. Ginevra hanno preso il via ufficialmente colloqui per la fine della guerra civile in Siria. L'annuncio ieri da parte dell'inviato speciale dell'ONU, De Mistura, colloqui non facili dopo gli ultimi fatti di sangue. Nelle stesse ore il regime di Damasco ha autorizzato l'ingresso di aiuti umanitari in alcune città sediate, mentre l'Associazione Aiuto alla Chiesa che Soffre lancia un'iniziativa di preghiera per la pace il prossimo mercoledì delle Ceneri. Ogni vera esperienza di vita consacrata deve trovare il suo principale fondamento nella gioia della misericordia assaporata personalmente. Ogni evocazione proviene da uno sguardo che è allo stesso tempo espressione di misericordia e di elezione da parte del Signore. E quanto si legge nel messaggio che la Commissione Episcopale CEI per il Clero e la Vita Consacrata ha elaborato in occasione della ventesima giornata mondiale della vita consacrata che si celebra oggi. E adesso cambiamo argomento, tra pochissimo una telefonata per parlare di un fatto importante che avviene tra pochi giorni, sarà a Roma, saranno a Roma le spoglie di Padre Pio da Pietrelcina insieme a quelle di San Leopoldo Mandic, perché questi due uomini rappresentano un po' quello che è il messaggio di Dio, la misericordia di Dio. Sono stati portatori della loro misericordia e questa mattina c'è stata una conferenza stampa per presentare un DVD particolare. Ne parliamo con Stefano Campanella, portavoce dei Frati Cappuccini di San Giovanni Rotondo. Pronto? Pronto, eccomi. Buongiorno. Allora, cosa è successo questa mattina in sala stampa? Allora, nella Filmoteca Vaticana, che è stata più utile per quello che dovevamo presentare, sono stati illustrati due prodotti editoriali che verranno distribuiti a partire dal 4 febbraio con Famiglia Cristiana e Credere e che sono già in tutte le librerie cattoliche italiane. Un DVD e un libro, di cui sono l'autore, interniati sulla misericordia in Padre Pio, nei quali si mette in evidenza non soltanto il suo aspetto di dispensatore di misericordia, attraverso il sacramento della riconciliazione, di cui Padre Pio è stato un martire, vero e proprio, perché trascorreva in confessionale fino a 16 ore al giorno, nei periodi in cui le condizioni di salute glielo permettevano. Ma Padre Pio è stato anche un dispensatore di misericordia sociale, avendo promosso a San Giovanni Rotondo la realizzazione di ben due ospedali, tutti conoscono Casa Sollievo, ma non tutti sanno che prima di Casa Sollievo, Padre Pio ha promosso la costruzione di un più piccolo ospedale che poi fu distrutto da un terremoto, l'ospedale San Francesco, e dopo Casa Sollievo, Padre Pio guardò anche agli altri bisogni terreni, umani, dei contemporanei della sua epoca e guardando i giovani che mendicavano, soprattutto nel dopoguerra, dinanzi al convento, Padre Pio disse che non è possibile che questi ragazzi debbano portare il pane a casa chiedendo la lemosina e promosse la realizzazione di un centro di formazione professionale attraverso cui migliaia di ragazzi ebbero una qualifica e con questa riuscirono a trovare lavoro. Ecco, questo è molto bello, Stefano, è molto bello perché vediamo che la preghiera, la vita di pietà si accompagna poi alle opere, non si ferma quindi a qualcosa che a qualcuno potrebbe parere, diciamo, teorico, ma poi si traduce anche in opere concrete. Io volevo chiedere una cosa, perché questa mattina sono stati presentati quindi questi due nuovi strumenti per conoscere più da vicino Padre Pio e sappiamo che tra poco le sue spoglie saranno a Roma per la devozione dei fedeli in occasione del Giubileo della Misericordia. È un grande avvenimento questo? Indubbiamente, e lo si percepisce anche dall'attenzione mediatica, in questo avvenimento si stanno occupando non soltanto i media italiani ma anche quelli internazionali, perché si tratta di un caso a memoria d'uomo unico, cioè non si ricorda di due santi che contemporaneamente vengono portati nella Basilica di San Pietro che rappresenta il cuore della cristianità per essere proposti come modello per, in questo caso, una categoria specifica, quella dei sacerdoti e più specificamente i sacerdoti confessori. Ma al tempo stesso questi due santi, avendo esercitato anche a livello personale la misericordia, diventano un modello per tutti i cristiani e questo penso sia l'intento di Papa Francesco. Ecco, in particolare parlando della misericordia di queste due persone, che cos'è che colpisce di più? Cioè, se uno volesse mettere in pratica i loro insegnamenti, cosa dovrebbe fare? Fare come hanno fatto loro, cioè amare i fratelli e fare in modo che questo amore per i fratelli potesse essere una sorta di riflesso dell'amore di Dio. Infatti loro sono arrivati, in particolare in questo caso parlo di Padre Pio, anche a perdonare coloro che lo hanno perseguitato e credo che abbia trovato essenzialmente la forza per un atto di eroismo del genere e nel mio libro per esempio cito quattro casi, che sono quelli documentati e documentabili, ma sicuramente Padre Pio ha perdonato in maniera molto più ampia, ha trovato la forza nella preghiera e questo è l'elemento comune con San Diopoldo. Entrambi erano uomini di preghiera e quando non erano in confessionale erano davanti al Santissimo Sacramento in preghiera. Allora, grazie Stefano, veramente seguiremo con attenzione i prossimi avvenimenti del Giubileo della Misericordia con questa figura così grande della Chiesa che è stato Padre Pio da Pietrelcina. Grazie. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie. E adesso cambiamo argomento perché da oggi niente più sigarette in automobili, la presenza di minori o donne incinte, fumo bandito nei pressi degli ospedali, in maxima multa da 300 euro per chi getta i mozziconi a terra o in acqua. Sono solo alcune delle nuove norme in vigore appunto da oggi, misure che recepiscono una direttiva europea. Ma non dimentichiamo anche i danni del fumo sulla nostra salute oltre a questi comportamenti virtuosi. Sentiamo in merito questo servizio di Francesca Martini. La legge antifumo in Italia c'era già, ma i numeri dei fumatori e soprattutto delle patologie correlate al fumo non sembrano essere molto diminuite. Ecco spiegato il perché delle nuove norme pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 18 gennaio ed entrate in vigore oggi, 2 febbraio 2016. I punti chiave della nuova legge prevedono maxi sanzioni dai 60 ai 300 euro per chi getta mozziconi per terra o nell'acqua, immagini shock sui pacchetti delle sigarette a partire dal 20 maggio, divieto di fumo in luoghi pubblici, nei presidi ospedali, presidi pediatrici e soprattutto divieto di fumo in presenza di minori e donne in dolce attesa. Tutto ciò che viene inalato, essendo particelle infinitesimente piccole, vengono ad essere veicolate per via circolatoria e quindi tramite circolazione placentare arrivano al feto e quello è veramente ancora più aggredibile e meno difeso ovviamente. Quindi il sollecitare le donne fumatrici a non fumare assolutamente in gravidanza è proprio perché viene indotto un danno al feto che è ancora più grave perché è in via addirittura di crescita, di sviluppo iniziale e quindi molto fragile. E se dopo una legge già in vigore c'è stata la necessità di intervenire con norme più severe, la riflessione deve essere ancora più attenta in materia fumo, oltre ovviamente ai controlli che secondo il Kodakons dovrebbero essere fatti ed in modo efficace. Comunque i dati parlano chiaro, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità il fumo rimane ancora oggi la seconda causa di morte nel mondo e la principale causa di morte evitabile. Quasi 6 milioni le persone che perdono la vita ogni anno per i danni da tabagismo. Fra le vittime oltre 600 mila sono non fumatori esposti al fumo passivo. Ci sono inasprimenti per quanto riguarda la vendita dei tabaccai ai minori che già dovrebbe essere vetata? Asprirle evidentemente responsabilizzando anche i venditori in questo caso ancora di più rispetto alla legge tradizionale che già lo aveva fatto ed è stato poi il vero fulcro del successo della legge quello di dire tu fumi in un locale pubblico, sì, io metto una multa a te fumatore ma la metto anche a chi non ti ha bloccato in quanto gestore del locale. Nell'immediato paio d'anni dopo la promulgazione della legge un calo significativo dei fumatori, anche dei giovani. Purtroppo dopo che nel tempo le persone di mezza età hanno continuato a smettere ma i giovani hanno continuato a non smettere ma a riprendere l'abitudine del fumo. Ora fa danno a tutti ovviamente ma in una struttura biologica quale quella di un sistema respiratorio in via di sviluppo e formazione perché nella fase dell'adolescenza non è ancora completo dal punto di vista delle difese dei meccanismi biologici in grado di poter in qualche modo controbattere il danno da fumo perché non è ancora sviluppato completamente il sistema chiaramente fa più danno che ad altri. E adesso alcune notizie dai giornali a pagina 6 e 7 dell'Avenire Grande Spazio sulle unioni civili primo voto, ultime ore per trattare oggi il Senato si esprime sulle pregiudiziali del sito della stampa invece abbiamo altre notizie che arrivano che in questi giorni ci parlano di neonati abbandonati del bimbo di due mesi lasciato ancora in vita la culla per la vita del policlinico di Milano mentre di un feto che è stato trovato privo di vita in un cassonetto in provincia di Modena di fronte a questi drammi ricordiamo che è attivo un servizio SOS Vita che è l'8008-13000 perché non vorremmo più leggere di queste notizie ma sappiamo anche dell'importanza appunto di queste culle per la vita che sono state attivate in diverse città e un'altra notizia ancora la prendiamo dall'agenzia SIR Francia Femministe e Lesbiche all'Assemblea nazionale per l'abolizione universale della maternità surrogata succede oggi 2 febbraio e di questo allora ne parliamo con Maria Grazia Colombo vicepresidente del forum delle associazioni familiari pronto? pronto buongiorno allora molto interessante questo incontro che è stato voluto in Francia perché nel mondo non venga sfruttato il corpo della donna soprattutto di quelle donne che vivono in paesi in via di sviluppo che quindi a volte vengono reclutate da questi centri per la maternità surrogata perché loro hanno bisogno di mezzi per vivere ecco qual è il suo commento a questo grande avvenimento? io sono molto contenta di questo avvenimento che nasce con una lettera dobbiamo ricordare nel 2013 inviata da tutta un po' la sinistra francese a Hollander presidente Hollander in cui si metteva proprio a tema questa questione del lucro in affitto per cui è tempo che se ne sta parlando anche se sembra una questione che è lontana da noi come lei ha detto sono paesi lontani che l'America e poi Nepal India eccetera ma il punto è che sia un certo mondo che si risvegli su questa questione rimettendo a tema la dignità della persona noi abbiamo fatto una conferenza stampa come forum dell'associazione familiare come donne il 28 gennaio al Senato e abbiamo posto proprio questa questione della dignità e anche questo affermare che non è un progresso l'ultimo affitto non è un traguardo di progresso perché a volte pare che così noi italiani e noi donne cattolici sono tutti retrogradi questa è una questione totalmente opposta allora guardiamo con molto interesse che da un altro tipo di mondo con estrazioni e radici culturali diverse si sia messo a tema questa questione che è universale non è francese europea è universale ecco colpisce perché questa pratica consente diciamo di tra virgolette ordinare un figlio che viene poi portato a compimento grazie alla gravidanza di una donna che non c'entra con la coppia che sia eterosessuale o omosessuale che desidera questo figlio e dopo il figlio viene preso appena nato quindi certo è una contravendita guardi mi spiace usare queste parole molto dure ma in effetti noi siamo di fronte a un contratto di compravendita in cui viene che è stilato e questo bambino diventa merce di scambio esclusivamente per questo che oltretutto questa pratica ha preso piede nei paesi più poveri ma anche nell'America latina nel Guatemala eccetera cioè dove evidentemente ci sono delle condizioni economiche che non giustificano assolutamente ma che creano il tessuto ideale proprio per questa per questa pratica che è veramente disumana per la donna ma anche per il bambino ecco infatti quello che mi colpisce è il fatto che il bambino venga preso proprio appena nato per essere consegnato alla coppia che ha chiesto questo bambino ecco non si pensa che ci possa essere diciamo un trauma per il fatto che il bambino viene separato da sua mamma che ha bisogno della mamma soprattutto ai primi mesi e non solo voglio dire certo ma di fatti il punto è proprio questo perché sì è non riconoscere che il bambino crea la prima relazione nell'utero per cui c'è questa relazione intima grandissima che poi lo costituirà ma tutti i bambini anche quelli che nascono in situazioni anche più difficoltose ma imparano e diventano figli fin da quando sono dentro questo non è una questione sentimentale questa è questione provata comunque se mi permette mi ha fatto mi ha fatto sorridere ma purtroppo non è un sorriso amaro quando ho visto proprio l'altro giorno una legge che è passata dal nostro Parlamento in cui i cani tenuti nel canile che hanno dei cuccioli c'è una legge che vieta che questi cuccioli siano tolti prima dei tre mesi dalle mamme dai cani che li hanno partoriti allora questo le fa dire come noi oggi stiamo vivendo veramente un mondo molto confuso e molto strano in cui proprio si riconosce quasi una vicinanza nel campo animale giustissima corretta perché tutti noi comunque rispettiamo anche gli animali ma mentre si dà un'altra interpretazione meramente economica di sfruttamento perché questo è il sfruttamento quando parliamo di donne e parliamo di maternità allora seguiremo con attenzione quello che succede oggi in Francia grazie intanto grazie adesso cambiamo argomento pur restando in ambito un po' diciamo vicino parliamo di un appuntamento che si tiene nella diocesi di Verona perché sabato prossimo al palariso di isola della scala torna il tradizionale meeting invernale della festa della vita organizzato dal centro di pastorale adolescenti e giovani della diocesi di Verona tanti giovani attesi per una serata fatta di preghiera musica e testimonianza vediamo tanti giovani tanti adolescenti sono attesi anche quest'anno al palariso di isola della scala per un appuntamento che ormai è divenuta tradizione per il comparto giovane della diocesi veronese ovvero il meeting invernale nel giorno in cui si celebra la vita la vita nascente la vita giovane la vita come dono fatta di gioia speranze le difficoltà perché ai giovani si propone di festeggiare una giornata di questo tipo la giornata della vita è una scelta particolare abbinare i giovani alla difesa della vita certo sicuramente la vita viene vista sempre come qualcosa di spettacolare i giovani magari adesso non hanno sempre questa visione quindi proponiamo e abbiniamo in collaborazione con il centro aiuto vita e un po' questa testimonianza e questo evento per far capire la splendida vita che possiamo avere il dono splendido della vita slogan del meeting di quest'anno perdonato per donarmi un tema che nasce dall'ospite il rapper cristiano shock che dopo un'infanzia travagliata nella quale ha vissuto tutte le esperienze più dure ha incrociato la fede grazie ad una giovanissima ragazza e al suo coraggio noi ci siamo partiti dal messaggio dei vescovi e ripercorrendo un po' quello che loro ci hanno detto in questo testo abbiamo voluto avere lui come testimone perché ripropone un po' quello che è anche la misericordia e divideremo un po' la testimonianza che lui farà in tre punti inizialmente una vita come buio quindi tutto il suo passato vedremo tutto quello che lui ha e ci racconterà quello che ha vissuto nel suo passato passeremo poi alla sua possibilità di cambiamento quello che ha vissuto lui come cambiamento quindi una misericordia accolta e quello che lui poi donerà lui dona la sua testimonianza quindi una misericordia donata il pomeriggio al Palariso si aprirà alle 16.30 con l'accoglienza poi alle 17.30 la Santa Messa presieduta dal Vescovo di Verona Monsignor Giuseppe a seguire la cena con il piatto tipico della zona il risotto e la serata poi proseguirà con la testimonianza di sciocche e la conclusione con la consegna del mandato e dopo questo appuntamento torniamo sulle notizie di oggi dall'Ansa l'Istat ci dice che il tasso di disoccupazione a dicembre risale ma in un anno ci sono stati 109 mila occupati in più e sempre le notizie che si leggono oggi purtroppo quella drammatica di un ex imprenditore disoccupato a Genova che si è suicidato quando gli è arrivata una cartella esattoriale da 100 mila euro questo è un tema drammatico che ci parla di una realtà di tante persone che perdono il lavoro che spesso non sanno a chi rivolgersi per chiedere aiuto e allora in questo momento parliamo di un servizio specifico si chiama Inoltre è stato attivato dalla è finanziato dalla regione Veneto già da alcuni anni attivo adesso è stato rifinanziato fino al 2018 ne parliamo con Emilia Laugelli responsabile del servizio inoltre psicoterapeuta pronto buongiorno 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 a tutti allora diciamo qualche numero quante telefonate avete avuto in questi anni allora noi siamo partiti nel giugno del 2012 era una tragica primavera se ricordate ci sono state moltissime notizie relative ai suicidi degli imprenditori e il governatore Zaia ha voluto attivare questo servizio da allora siamo a 2800 chiamate 2800 chiamate che cosa vuol dire intanto stiamo vedendo immagini che sono relative al mondo genericamente al mondo del lavoro è partito come servizio destinato agli imprenditori e poi si è spostato per i lavoratori in difficoltà non solo del Veneto anche da fuori regione certo noi siamo un servizio H24 per dire insieme alle forze dell'ordine 118 noi siamo aperti seppur telefonicamente tutti i giorni dell'anno 24 ore al giorno per cui al nostro telefono si sono rivolti imprenditori dipendenti casse integrati persone che con il tema del lavoro hanno toccato un momento di grossissima difficoltà anche da fuori regione noi accogliamo tutti quelli che hanno bisogno e necessità di essere ascoltati e di essere indirizzati nei servizi preposti però la nostra attenzione si focalizza appunto sulla regione Veneto perché è un progetto finanziato dalla regione Veneto relativo agli imprenditori veneti e non ecco chiedo intanto alla regia se può mettere in sovrimpressione il numero verde che è 833 43 43 se no lo dico io non c'è problema ecco volevo capire chi è che vi telefona che cosa vi chiede e che cosa potete dare voi ecco la notizia che lei ha dato prima della della nostra chiamata è la tipologia di imprenditore che solitamente ci chiama ma come ultimo numero da utilizzare noi siamo lavoriamo in maniera anonima nella riservatezza più totale per cui il mantenimento della privacy perciò chiunque ha difficoltà per cui non vede altre soluzioni è la persona giusta che può chiamare sono imprenditori sono stati imprenditori solitamente ma anche piccoli artigiani piccoli alcuni operai dei padroncini persone con attività improprio che a causa delle tasse dei debiti dei crediti non hanno più potuto portare avanti la loro azienda e a un certo punto della loro vita magari sommando altre difficoltà che la vita stessa porta avevano come deciso di non di non continuare noi siamo degli psicologi esperti in psicologia dell'emergenza ma anche formati sui temi degli imprenditori in generale per cui nel momento in cui si telefona noi diamo oltre alla chiamata soprattutto per gli abitanti del Veneto un accompagnamento mirato un accompagnamento che intanto vicinanza ascolto ma non solo professionalità messa al loro servizio ecco io ricordo un attimo un numero verde che è 833 434343 e ricordo anche che è un servizio gratuito certo è un servizio voluto dalla regione rifinanziato dalla regione che continua adesso a lavorare tutti i giorni noi abbiamo una chiamata almeno di persone che necessitano di avere un confronto con l'istituzione con dei professionisti che sanno di poter dare loro una una la professionalità ecco di cui hanno bisogno ecco mi verrebbe da dire Emilia Laugelli mi verrebbe da dire bisognerebbe magari chiamare un attimo prima di essere proprio in quella situazione di così grave disperazione che uno veramente non capisce più niente non sa più cosa fare quindi un attimo prima magari riuscire a chiamarvi in modo da riuscire a vedere un po' di luce perché poi penso che con il sostegno di qualcuno la soluzione si riesce in qualche modo a gestire la soluzione la si trova per tutti i problemi che vengono presentati l'importante è riuscire a condividerli a lavorare insieme verso un obiettivo di benessere e di salute e le risorse almeno nella regione del Veneto riusciamo quasi sempre a trovarle la prima risorsa è la vicinanza di una persona che sa sa lavorare e sa offrire quello di cui la persona che chiama in quel momento ha bisogno grazie queste 2800 persone 377 sono stati seguiti e aiutati a venire fuori da quella crisi che magari li avrebbe portati chissà dove e questi sono numeri importanti perché ogni numero è una persona grazie buon lavoro soprattutto grazie a voi e allora io ricordo ancora una volta questo numero per persone che hanno perso il lavoro che non sanno a chi chiedere un appoggio un sostegno morale un aiuto insomma che magari vengono presi dallo sconforto dalla disperazione il numero verde 833 43 43 43 adesso cambiamo completamente argomento parliamo di cinema e misericordia perché tante volte vedendo un film riusciamo ad affrontare tematiche importanti e ad andare nella profondità della vita è stato scritto un libro sui film che parlano di misericordia sentiamo questa intervista puntata sui film che in qualche modo toccano il tema della misericordia ci sono questi film sì ci sono abbiamo deciso anche di poterli raggruppare in una nuova pubblicazione che si intitola lo sguardo aperto 10 film sulla misericordia edito dal centro ambrosiano e promosso dall'ACEC l'associazione cattolica esercenti cinema è uno strumento che mira ad aiutare non solo quelli che sono i cinema in ambito delle comunità cristiane ma anche tutte quelle realtà pedagogiche educative e formative che utilizzano il cinema come strumento anche di formazione ci sono tantissimi film che possono essere commentati a partire dalla categoria della misericordia noi ne abbiamo selezionati una decina una parte sono del penultimo anno quindi anche disponibili in dvd in modo che possono essere utilizzati anche in un contesto appunto non solo di sala cinematografica e una parte sono molto più recenti tra cui anche un ultimissimo che uscirà qui a febbraio che viene direttamente dalla Francia che si chiama Maria Ortenne che racconta la storia appunto di due suore che avranno una relazione fraterna amicale che aiuterà entrambe a superare anche delle cose importanti e dolorose della loro vita come si parla della misericordia attraverso un film cioè in questi dieci film di fatto come si raccontano storie di misericordia allora intanto noi abbiamo avuto così l'idea di anteporre prima di ogni scheda cinematografica due saggi importanti che ci raccontano la misericordia rispetto a un dizionario biblico che è stato questo testo coordinato dal Gesuita padre Guido Bertagna molto esperto sia di giustizia riparativa ma anche di cinema e poi abbiamo coinvolto uno psicologo che invece ci ha dato una lettura della misericordia da un punto di vista psicologico perché riteniamo che siano due passepartout in qualche modo questi della Bibbia e della psicologia che possono aiutare le persone a comprendere meglio anche i film i film raccontano delle storie che sono profondamente umane quindi noi prima cerchiamo anche di far emergere elementi estetici e stilistici del linguaggio cinematografico perché comunque quello è lo strumento che utilizziamo e poi c'è tutta una scheda molto ampia riletta da ciascun perché questa è un'opera collettiva l'abbiamo curata io e un presbitero milanese che si chiama Don Gianluca Bernardini e poi ogni scheda è curata da un autore diverso e ogni autore ha portato anche una sensibilità particolare nell'andare a rileggere il film a partire dalla misericordia e con questa intervista ad Arianda Prevedello vicepresidente della CEC Associazione Cattolica Esercenti Cinema chiudiamo oltre la cronaca di oggi l'appuntamento domani sempre in diretta alle 13.30 Grazie a tutti Grazie a tutti